è cesa? si è cesa! ciao! ciao Mario! Sandro? Sandro è salito! siamo sul pezzo più cattivo della strada cover Ricky in arrivo! vediamo un po' se ce la fa, sennò tocca aiutarmi dopo tocca a me che mi aiutate vorrebbe una... tanta gente, ti tieni allora lo tiri come niente ecco quei la, se ne fregano, sta la, baiati non è stato lì eh? passati che così magari vi mette le ruote lì ecco, Ricky! vai, Ricky! vai! 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 Grazie Grazie dovresti farcela qui c'è il fiatone 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 che dice che il trattorino non sale? eh no prima volevo stare qui a darvi una mano a voi per quello devi proprio aspettare l'idea vai vai dai dai Dario no è la cerniera rotta è inutile che chiudi vabbè intanto un po' di culo anche per me quando ho visto che lì sotto avevo l'equilibrio giusto la trazione giusta ho detto vai non mi fermo è fatta se ti fermi lì basta fermi velocità è finita si manca il Dario bella lì e manca uno manca il Dario sta arrivando no no eh non si molla qua si adesso lo aiutiamo se ha bisogno e poi veniamo su anche noi Dario Dario che è mezzogiorno sono le campane siamo un po' in ritardo oggi eh abbiamo perso tutto qua comunque si a quest'ora eravamo già giù al carreggio eravamo già giù al carreggio a quest'ora si si eh no ma tu non ti sentivamo non ci fosse qua qualcun altro no no ero io che dicevo c'è lì Damiano gli dà una mano a lui no perché il Damiano è riuscito a partire è stato detto riandato ehi cazzo ehi cazzo fai si è fermato qui sotto già è un po' presto eh ecco aspetta Dario la provo io bravo 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 non faccio il tempo